Adesso Paolo sa girare C'è una sorpresa dentro Qualunque cosa dite adesso Siete sotto la giurisdizione del video Quanto tempo ci vuole Questo che posso fare il bar Giuseppe, tu che lavori al bar Queste cose, veramente che Sai come è un po' Non so come da soldi Vabbè Adesso fotografate queste due situazioni E li lasciamo Ma niente, posso toglierlo, è vero? Sì Ma quella è la che lecineggia a maggio Per la quarta Che ti fa la centinaio al giorno Quindi qui si comincia il sale Legge Oh ma questo è più scuro Quello è trasparente Quello col sale è più scuro Praticamente il dialoggiamento È legato a un discorso di confronto Di diversità tra il mezzo in cui ti trovi